Speriamo che arezzo a non risprofondi dell'emergenza maltempo come accaduto qualche giorno fa. Arriva infatti il codice giallo e lo stato di vigilanza meteo dalla regione per temporali che sono previsti in tutta la Toscana per tutta la giornata di venerdì. Il codice giallo esprime il livello più basso di attivazione per il rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. La causa è una perturbazione che arriva dalle coste africane e che instaura un flusso mite e umido meridionale con precipitazioni diffuse anche di forte intensità. Sono attesi isolati temporali anche di forte intensità nelle zone più meridionali della regione. Nella giornata di venerdì piogge diffuse su gran parte della Toscana anche di forte intensità e a carattere di forte temporale con cumulati significativi. In occasione di questi fenomeni, soprattutto di quelli più forti, sono possibili anche colpi di vento e grandinate. La regione mette a disposizione il sito www.regione.toscana.it slash allertameteo con i comportamenti da adottare nelle diverse situazioni che si possono presentare.